Allora, Strangio e Breglio, migliori in campo di un'insolita sfida tra Ammers e San Lorenzo. Allora ragazzi, una partita molto combattuta, da una parte abbiamo il goleador degli Ammers, dall'altra invece il portierone del San Lorenzo. Partiamo prima dal bomber degli Ammers, oggi per te due reti. Cosa possiamo dire di questa partita? Che dobbiamo dire? È una partita abbastanza sofferta, l'importante è che abbiamo messo le tre punti. Senti, San Lorenzo forse ve lo aspettavate più facili, quindi siete entrati un po' più molli in campo. No, assolutamente, in partita sempre forti e duri. Senti, dall'altra parte invece abbiamo Breglio, oggi grandi parate, però purtroppo non sono arrivati i tre punti. Ma purtroppo perché la squadra non c'era, non c'era questa sì, ci siamo mangiati brutti gollo davanti alla porta, ci siamo stati anche scortunati sui golli subito. Senti, oggi tante belle parate, quale può essere la più bella però? Non lo so, quella da terra, penso che si è messa a piangere, ma proprio. Va bene, grazie. Ciao.